B-Link BT3 mi permette finalmente di tornare a parlare con entusiasmo dei mini PC Windows. La scorsa settimana ho pubblicato una recensione abbastanza critica sulla chiavettina Amigo Pad T03. Tremenda sotto tutti i punti di vista. Questo no, nonostante usi lo stesso hardware, fondamentalmente sempre un Atom X5 Z83 con 2 GB di RAM, ma ha una componentistica di tutt'altro livello, comprensiva di Wi-Fi N Dual Band, che fa bene nei benchmark, comprensiva di Gigabit Ethernet, che non è velocissima al top, insomma, della capacità teorica di questo standard, ma comunque si comporta anche qui bene, con una USB 3.0, altre due USB 2.0, ma soprattutto, ed ecco che ci arrivo, con due moduli disco interno. In breve, qui avete due partizioni, due dischi separati, uno da 40 GB con all'interno Windows 10 e uno, a parte, separato da 20 GB completamente libero. Smontando poi il pannello posteriore, viene fuori che sopra e sotto ci sono due dissipatori. Quello superiore, che sta sulla CPU, sulle memorie, appunto sulla RAM, è il rame. È grande il rame, ben ancorato sopra i moduli. Quello sotto, invece, è connesso a tutto il resto, alla schedina, tramite una piccola pasta termica e poi c'è una grossa placca che sta proprio qua sul fondo. Ora, guardando questa scheda, vengono fuori anche altre chicche interessanti. Il connettore vero e proprio per l'antenna Wi-Fi. Volendo, voi potete installarci un'altra antenna con un altro connettore, magari presa da un altro box, o magari proprio di quelle comprate con attacco esterno. Si può fare una modifica in 5 minuti. Ancora vediamo che la scheda è firmata B-Link, quindi è specifica per questo modello, quindi non è generica. E infine vediamo che sul retro c'è una piccola batteria a bottone. Peccato solo che a livello di BIOS non sia possibile fare nulla, regolare nulla di tutti questi aspetti interessanti, perché ci sono 3 o 4 opzioni e stop. Una volta premuto il pulsante rosso sul retro e acceso Windows, lui come va? Beh, bene nell'uso di tutti i giorni. Il grosso vantaggio di questa piattaforma è la riproduzione H.265, teoricamente fine 4K, ma insomma io vedo che soltanto i 1080p in realtà vanno in modo abbastanza fluido, anche con codi, oppure con software specifici in grado di sfruttare la decodifica hardware. E lo stesso vale dal punto di vista grafico, soprattutto con i giochi 3D. Quindi qua abbiamo una GPU con 12 unità di elaborazione, che insomma è un bel passo in avanti rispetto a quella precedente. La CPU però qua è praticamente simile in termini di prestazioni, ma anche di benchmark, a quello che era il vecchio Atom Z3735, Z3736, quindi alla vecchia generazione. Quindi non vi aspettate un grosso passo in avanti in quanto a navigazione web, in quanto a reattività del sistema. Riuscite ad aprire qualche tab del browser, riuscite a lavorare con Word, con Office. Chiaramente sono dei mini PC secondari questi, o comunque dei mini PC basilari, che possono far comodo a casa, utilizzati magari da dei ragazzi, o come macchine principali per quando andate in viaggio, per una, appunto, la seconda casa al mare d'estate, vi portate dietro una cosa del genere. Oppure, visto che sono dei puri Windows 10, far girare su browser SkyGo, Netflix, Mediaset Premium, insomma queste applicazioni che qua possono girare nel loro meglio, e possono trasformarvi la vostra TV o il vostro mini PC davvero in un qualcosa che va oltre l'utilizzo proprio informatico, no? Relativo proprio al sistema operativo, ecco. Però non vi aspettate miracoli. Io qua vedo che, nonostante il buon dissipatore e la buona dispersione termica che c'è all'interno, i consumi che massimo arrivano a 11 Watt, ma normalmente, ad esempio, con Netflix e Wi-Fi stanno sui 4 Watt, lui fatica, a un certo punto, a mantenere tutte queste cose aperte, le temperature non arrivano mai ai 90 gradi critici che potrebbero indurre al trottling, io sono arrivato a 87 gradi circa su Core e una quarantina di gradi sull'esterno ed è una buona cosa. Qua vengono incontro anche due moduli MMC abbastanza veloci per la categoria, ma insomma avete sempre la sensazione di essere al limite quando cercate di fare qualcosina in più. Però, a parte questo, B-Link BT-3 mi è piaciuto, mi ha soddisfatto in termini costruttivi, qualitativi e nel complesso, visto che vi arriva anche in una confezione più carina del solito, semela quella dell'Intel Nuke, con all'interno un alimentatore da 12 Watt, quindi non da 5 Watt, come abbiamo visto in precedenza, insomma è una delle soluzioni che in questo momento, tra i Cherry Trail, vi consiglio. Ok, ho altro da dirvi su questo BT-3, come al solito, tra l'altro in questi giorni io sto provando altri mini PC, quindi magari potrebbe interessarvi proprio ad andare a vedere un confronto tra una macchina così basilare e macchine un pochetto più costose, anzi un bel po' più costose, però comunque molto più prestanti dal punto di vista proprio dell'usabilità, dell'uso di tutti i giorni. Al solito su hdblog.it trovate tutti questi dettagli qua sotto in descrizione, vi lascio il link per raggiungere direttamente la recensione testuale insieme al pulsantino per iscrivervi al canale e per mettere un mi piace. Grazie.